Gianluca Zelli si è dimesso dalla carica di coordinatore regionale di azione politica, la civica che ha corso al fianco del centrodestra alle ultime elezioni regionali. Zelli lo ha comunicato questa mattina a Pescara nel corso di una conferenza stampa in cui ha spiegato i motivi della decisione arrivata a poche ore dall'estromissione di azione politica dalla giunta Marsilio. Essendomi dimesso non deciderò più io per azione politica, azione politica come abbiamo detto tante volte e oggi io dico sempre che le cose vanno dimostrate con i fatti e non con le chiacchiere. Quindi essendo un movimento plurale e composto da tante entità c'è chi berrà dopo di me, quindi sono io che mi dimetto perché effettivamente sì, è stata un'imboscata. Perché ieri era palese, perché due ore mi sembra, avete riportato più voi di me, mi sembra due ore che siamo stati in riunione. Abbiamo passato un'ora a parlare strumentalmente perché è chiaro che era una cosa per cercare di ammorbidirmi dell'allargamento degli assessori da 6 a 8 e dopo di che ci abbiamo messo mezz'ora a definire guarda caso gli assessori. C'è una soluzione che non si è trovata in un mese, una soluzione che non si è trovata con i partiti, si è trovata in 20 minuti e mezz'ora con il Presidente che alla fine ha chiuso lo schema come detto da lui perché praticamente l'ultimo schema è stato dettato da lui e è stato inserito da lui l'ultimo assessore che è stato di Fratelli d'Italia. Quindi non solo è stato un'imboscata ma ha tradito quello che era un accordo. Vostro consigliere regionale Sant'Angelo resterà con azione politica? Allora ad oggi Sant'Angelo è in azione politica, nelle riunioni che ho citato prima era presente quindi sa quello che sta succedendo in questo momento, dopodiché per il resto c'è Angelo Dottavio, il coordinamento regionale si vedranno oggi, sentiranno il Presidente, vedranno loro. Insomma adesso mi prendo la parte positiva delle dimissioni, nel senso che non è più un mio problema. Il suo futuro? Il mio futuro rimane comunque a prescindere da tutto in azienda, quindi non è cambiato. Lascia la politica? Non lo so, l'ho detto alla sua collega, però oggi già di decisioni ho preso abbastanza quindi prendo queste, torno al lavoro e poi insomma in questi giorni vedremo. Commissario della lista civica sarà Angelo Dottavio che torna in politica dopo essere stato assessore provinciale di Pescara con Guerino Testa Presidente. Abbiamo il nostro consigliere Roberto Sant'Angelo che ci rappresenta nel gruppo consigliare di azione politica e con lui valuteremo le attività da fare caso per caso, ma faremo anche proposte, anticipo la domanda. Noi non siamo all'opposizione, ma forse non siamo neanche in maggioranza. Rappresentiamo 20.000 persone e valuteremo i provvedimenti che arriveranno al Consiglio regionale. Avremmo voluto dare il nostro contributo, modesto naturalmente rispettando gli equilibri e i numeri, già dal governo regionale, ma semplicemente perché se ne era parlato, perché c'erano degli accordi e soprattutto perché si era detto di dare rappresentanza a tutti. Poi evidentemente i fattori e gli algoritmi non hanno permesso questo, ne prendiamo atto. Grazie. Grazie.